voi avete accettato una modalità che vi porterà alla sbaraglio se continuate ad ascoltare ai vari draghi di turno al mozzarella questa gentaglia al papa io vi ho spiegato la soluzione la soluzione c'è fino a ottobre a roma si riconquista l'italia e poi a quel punto ragazzi siamo noi padroni del nostro destino non possiamo essere solamente il fanalino di coda di tutti questi eventi aspettando che magari la russia c'è da un po' di gas e la cina c'è da qualche cosa o magari l'america... noi ormai siamo veramente degli accattoni e questo è solo l'inizio tra qualche anno saremo ancora più accattoni se continuiamo così siamo capiti quindi è ovvio e dobbiamo assolutamente trovare delle soluzioni e le soluzioni che in qualche modo possono riportarci possono riportarci a una stabilità ma anche a una sovranità